Siamo in questo programma per presentarvi la cosa interpretata da la cosa e noi che eravamo un fan di Leone e Cane Fiffone ma ci piace ancora oggi e così via e oggi vi parliamo proprio di questo cartone animato, terza stagione, la fine. Ciao a tutti da Franco e Francesco. Non dobbiamo dire per forza il nostro nome. Salve a tutti i guacicvari e benvenuti nella nuova puntata di The Cartoon Show 3, c'è l'ultima. E oggi per finire la terza stagione vi recenseremo Leone e Cane Fiffone. E' nato nel 1972, nato nel 2002 e concluso nel 2005, sì giusto, con in tutto 7-4 stagioni. La serie parla di un cane rosa che si chiama Leone, che lui è un cane, che vive con due vecchietti, in una fattoria. Questo è un cane rosa che fa cose, nel senso che fa cose... Gli succedono sempre cose strane, incontra mostri... Vabbè, sì, e così via. C'è anche Barilu, che è una anziana. Che è la padrona. Sì, e c'è anche Giustino, che è diventato famoso per la parola STUPIDO CANE! Certo, quella parola è famosa. E così via. Allora, Leone e il Cane Fiffone è un cartone... Sì, è per bambini, c'è. Certo, ma ci sono degli episodi inquietanti. A dirmi sincero, come tipo quello della Talpa Mannara stagione 3. C'è... Strano. Strano. Sì, però c'è poi Leone, che riesce sempre a sconfiggere tutti. E ad aiutare Marilu e Giustino. Certo. Inoltre, loro vivono altrove, nell'isolato, senza nessuno. Certo. In una fattoria isolata, sì. E poi, hanno fatto dei film con Scooby-Doo. C'è tipo quello dove vanno in mestico, quello dove fanno cose. E così via. Vabbè. Ci sono degli episodi, tipo quello della prima stagione e la fine. C'è quello dove ci sono un Marilu e Giustino che diventano delle marionette per un concodrillo. C'è anche Fred lo strambo che è sto tizio qua. Le dice ad agio, ad agio, mi senti malvagio. Sì. Esiste la parola, c'è teoria scientifica. Poi c'è questo che è semplice un bicchiere. Certo, che lei è una tizia che appare nella quarta stagione. Sì, perché le linee sono quattro. La luna con una faccia strana. Certo, che lei fa cose, nel senso che spaventa tutti e fa cose. E poi ci trovano altri personaggi. Tipo le anadre, il gatto. Ci sono un sacco di personaggi. Ci sono i cani e il fifone. Certo, questa è l'ultima puntata. E così via, ma noi non vi facevo spaventare, giusto? Giusto. E così via. Il telefone, certo, è per bambini. Però ha degli episodi inquietanti. C'è tipo Peppa Pig è più da bambini. E poi noi aggiungiamo quel cartone, ma non è proprio un gran che... Questo diciamo è per bambini coraggiosi. Sì. E Peppa Pig, invece, è per poppanti di sette... Di cinque... Tre anni. Al massimo. Opruno. E così via. Io ho il calififone, invece, è per bambini che devono imparare le cose. Devono studiare. E devo fare cose. C'è anche questa tizia, che è apparsa in un episodio che noi non abbiamo visto. Però io la conosco grazie a YouTube, che è diventata famosa perché lei fa paura. C'è anche... Un troll. Che cos'è questo? Un troll. Certo, e Mary Lou fa seduta in un episodio della prima stagione, c'è la sua prima possessione, e ci sono dei personaggi che fanno apparizioni, c'è... Poi il gatto fa delle apparizioni e basta, c'è... C'è tipo il primo episodio di Leone il canififone, ti spaventa. E così Leone il canififone. E dunque... Allora... Dunque, Leone il canififone è una serie di cartoon record che ci piace. Non è proprio all'altezza di Think Titans Go, Clarence... Apple e Onion. Però è divertente, diciamo è un 7 su 10. Sì, certo. Perché... Certo, rispetto a Peppa Pig, questo... Possiamo dire che assomiglia ai Simpsons. Certo, perché c'è alcuni riferimenti a quel cartone animato che noi abbiamo recensito sul The Cartoon Show 2. E così via. Leone il canififone è bello. Sì. E dunque, gente... Noi facciamo una prova di assemblamento. E così via. E poi hanno fatto pure delle altre cose. Ci sono un sacco di creepypasta sul cane. Sì. Ma proprio tante che poi non avete idea. Sì. E vabbè. Dunque, gente. Noi concludiamo questa recensione. Iscrivetevi al canale, lasciate like e... Ciao!